Sono sì sindaco di una città che ha l'onore e l'onere di avere il nome del suo prodotto di eccellenza ma la competenza no, arrivo solo ad assaggiarlo a capire che è buono quando sono fuori a cena o anche a casa con dei vito amici. Io vi do il benvenuto e vi auguro un buon ascolto, passo ovviamente la parola agli esperti. Grazie mille. 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 Grazie a tutti, parlo dai piedi anch'io, innanzitutto buonasera e grazie, grazie a Maria Vittoria per l'ospitalità, grazie a Daniele, grazie alla cantina che ci ospita questa sera, questa stessa parliamo di vino, ma prima di arrivare al nocciolo della questione, ovvero perché siamo un po' più questa sera, cosa stanno originando questa serie di incontri, io un paio di settimane fa ero da Asti a fare lo stesso incontro con i presidenti dei consorzi della Barbera, dell'Asti, del Corvaresto e quant'altro, perché c'è un timore fondato che venga discriminato, un prodotto che per noi è fondamentale, però uno potrebbe anche chiedersi perché siamo arrivati a questo punto e perché siamo arrivati a questo punto origina un po' dalla gestione di questa commissione nata nel luglio del 2019 che trova nella sua presidente Ursula conterlai nel riferimento politico, ma che è una commissione che ha una struttura politica particolare perché è una commissione che ha nella sua struttura, nella sua maggioranza i verdi e la sinistra, il centro-sinistra del Parlamento e infatti con questi voti che è stata eletta, quindi è la cosiddetta maggioranza Ursula, che con i pezzi del Partito Popolare, i pezzi del Partito Socialista, i pezzi del Partito dei cosiddetti Regno, cioè dei liberali che hanno creato questa grande maggioranza. Ursula von der Leyen, ormai noi che siamo qua detti i lavori e abbiamo imparato che ha due caratteristiche fondamentalmente, anzi tre. La prima, dal quale nutri tutta la mia invidia, è avere tanti capelli ed essere sempre molto ben pettinata e laccata, ma questa è ovviamente una battuta. La seconda è quella di essere, diciamo così, quella che fa gli annunci della commissione, infatti arriva in Parlamento e lancia le bombe, fa degli annunci. La terza è che politicamente non è quella che prende le decisioni vere all'interno della commissione perché il vero, diciamo così, delusers macchina di questa commissione è un'altra persona che furbescamente esce molto poco sui giornali, ma chi si occupa di agricoltura in qualche modo sa chi è, si chiama Franz Timmermans. Franz Timmermans che è un olandese, un socialista che ti fa la Roma, questa cosa io non riesco a darmi pace perché è un socialista e il volantese che ti fa la Roma, però questo è. Tra l'altro parla molto bene l'italiano, conosce molto bene il nostro paese, motivo per cui ci chiediamo perché li stiamo così tanto sulle palle, perché sembra fatto apposta che ogni provvedimento che arriva da questa commissione, che ha un po' il suo bollino, vada inevitabilmente a penalizzare il nostro paese. L'ultimo nell'ordine di tempo è quella sull'efficientamento degli edifici, c'è la direttiva che prevede la messa al bando del motore termico entro il 2035, che sono tutte direttive che in qualche modo colpiscono maggiormente il nostro paese rispetto ad altri. Perché c'è il pericolo dell'etichetto del vino? Perché è partito già nel 2019, la filosofia su quale si è basata questa commissione è stata una filosofia basata appunto sulla transizione ecologica, sulla transizione ecologica che poi doveva portarsi dietro tutta una serie di politiche per sostanzialmente raggiungere gli obiettivi altisonanti che la commissione ciclicamente si dà. Si era partiti, qualcuno di voi magari se lo ricorda, all'inizio degli anni 2000 con la strategia 20-20, cioè ridurre del 20% le emissioni entro il 2020 rispetto al 1990, obiettivo mancato lavorosamente, la commissione porte di questo completo mancamento dell'obiettivo non ha posto degli obiettivi più razionali, più facilmente raggiungibili, no, ha messo gli obiettivi ancora più alti, quindi siamo arrivati a porre nel 2019, attenzione nel 2019 quindi vuol dire pre-pandemia e soprattutto pre-guerra l'obiettivo della neutralità climatica, cioè di fare tante emissioni quante quelle che siamo in grado in qualche modo di assorbire, quindi con un abbattimento di raggiungere questo obiettivo sostanzialmente entro il 2055. Per fare questo è nata la strategia Fit for 55, quindi prepararsi per il 55. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che devono essere messe in campo tutta una serie di provvedimenti, tutta una serie di normative, tutta una serie di idee che vadano in qualche modo a ridurre la nostra quantità di emissioni di CO2 a livello europeo. Ora, nessuno ha mai messo in discussione il fine, perché il fine di avere un mondo più sostenibile, di avere un'aria più pulita, un mondo ben inquinato dove si consumano meno risorse e si consumano meglio, che ci danno la possibilità di avere una prospettiva per i nostri figli di più lungo periodo è sicuramente qualcosa a cui tutti, penso, abbiamo quotidianamente. Non penso che ci sia qualcuno di voi che ha piacere a buttare i rifiuti per strada senza fare la raccolta differenziata, piuttosto che a stare con il motore in folle e l'acceleratore schiacciato per un quarto d'ora così, giusto perché gli piace sentire l'umore. È ovvio che però per arrivare ad avere questa sostenibilità non possiamo farlo a discapito delle produzioni delle aziende e soprattutto delle aziende europee. Perché vi dico questo? Perché proprio nell'ottica di questa strategia stanno arrivando tutte in questa serie di provvedimenti uno di quelli di cui si sta parlando molto in queste ore, ormai non c'è approfondimento o giornale quotidiano che ne tratti, quindi è appunto il tema dell'auto che il governo italiano, orgogliosamente posso dire con una grande pressione del nostro partito della lega sia a livello europeo che a livello nazionale, è riuscita per il momento a buttare la palla in avanti rispetto a una decisione che ormai sembrava presa, ovvero la decisione di, appunto come dicevo prima, di vietare la vendita di automobili col motoretto termico a partire dal 2035, certo uno potrebbe dire il 2035, poi il 2035. il problema è che per una casa produttrice di automobili che mediamente permette a terra una linea di produzione di un veicolo dalla sua fase di progettazione alla sua fase di messa in strada richiede circa 6-7 anni, bene o male perché mettere in piedi una linea di montaggio di un'automobile con tutto il bene richiede tanti soldi, tanto tempo e tante risorse e ovviamente la ditta deve avere anche un orizzonte temporale per poter ammortizzare l'investimento, questo vale per la Fiat come vale per il piccolo produttore di vino che deve sapere in quanto tempo indicativamente può fare un ammortamento del suo investimento. Ecco, arrivare al 2035 significa che sostanzialmente le case di produzione hanno smesso di investire sul motore termico e perché questo per noi è un problema, perché un'auto con un motore termico ha indicativamente il 30-35% di componentistica in meno rispetto a un'auto con un motore elettrico, con una piccola e significativa differenza che quel 30-35% di materiale che viene prodotto, che viene inserito in un'auto con un motore termico viene prodotto per la maggior parte dei casi tra Torino e Verona. Perché vuol dire produrre connettori, valvole, tubi, eccetera eccetera, tutta una serie di piccole aziende che magari producono quel singolo connettore, quella singola valvola per i tubi di gas di scarico, quella singola valvola per il combustibile, quel singolo connettore per i tubi che portano il gasolio piuttosto che, che ovviamente non ci sono nell'auto motore termico, nel motore elettrico. E questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo indicativamente, secondo i dati che ci riporta la Confindustria, 60 o 70 li hanno posti di lavoro a rischio. Quando noi andiamo a Bruxelles a dire, occhio perché questa roba qua rischia di creare grossi problemi dal punto di vista occupazionale, la risposta che arriva è sempre la stessa. Ma tanto le aziende sanno riconvertirsi. E insomma, se io faccio un connettore per il gasolio e invece di farci passare il gasolio, ci faccio passare il biogasolio, posso convertirmi. Ma se il mio connettore nella macchina non c'è, vuol dire che io esco completamente dal mercato. Vuol dire che io devo pensare completamente a un nuovo modello di business, a un nuovo modello di mercato e un'azienda da 10, 15, 20 operai non è detto che abbia la capacità di fare questo salto e di fare questa transizione. Quindi di questi cosa ne facciamo? Le lascerò a piedi? No. Oltremodo preoccupa questa visione anche quelli che fanno le componenti che ci sono sia nell'una sia nell'altra vettura. perché l'idea, lo scopo della Commissione Europea non è semplicemente di trasformare tutto il parco veicolare da termico ad elettrico, ma di ridurlo. Quindi meno veicoli che circolano. Ovviamente per chi produce la componentistica per i veicoli vuol dire meno pezzi da poter vendere. Poi non ci hanno ancora spiegato bene chi dovrà e potrà avere l'auto e chi no. Perché ci dicono che nelle città bisognerà avere meno auto e più mezzi pubblici. Se l'esempio è quello di Milano, ecco io sono un po' preoccupato perché a Milano c'è e si sta mettendo in pratica questo modello, meno auto, il problema è che i più mezzi pubblici corrispondono a più costi. Perché il primo gennaio il biglietto del tram a Milano è passato da 2 euro a 2 euro, è aumentato il 10% così in una notte alla faccia dell'infrazione. non a basso costo, deve essere gratuito perché se tu mi impedisci di usare la macchina mi devi garantire di potermi spostare liberamente in città a qualsiasi ora prima di tutto e gratuitamente. ecco Milano, oltre a nulla del comune di Milano, quindi una macchina che ha sei anni, quindi una macchina sostanzialmente nuova, non può più entrare in città, perché la devi cambiare perché la tua macchina è inquida, senza tener conto del fatto che magari uno non cambia l'euro 5 perché non ha la possibilità di cambiare la macchina ogni 5 anni. Ovviamente quello che ha la possibilità di cambiare la macchina ogni 2 anni se ne frega anche del problema che gli aumenta il costo del biglietto del tram, perché tanto la disponibilità economica è di un certo tipo. Questo rimarca nel fatto che per adesso, per come è studiata questa transizione, sembra più una transizione che vada a verificiare quelli che già stanno bene e penalizzare invece le fasce più basse della nostra popolazione con un grande sonoro arrangiatevi, l'importante è che siamo tutti sostenibili perché così siamo più contenti. Ecco diciamo che non è il nostro modello di sostenibilità, perché la sostenibilità ambientale deve comunque andare di pari passo con una sostenibilità sociale e una sostenibilità imprenditoriale. Quindi vuol dire fare dei percorsi che tengano in piedi non solo l'ambiente ma anche le aziende e le famiglie. in tutto questo discorso ovviamente arriviamo, per gradi arriviamo poi anche al tema del vino, c'è un altro tema che preoccupa particolarmente, che fa tante emissioni, che è fonte di grande inquinamento nel nostro paese, è l'agricoltura. e l'agricoltura perché la Commissione Europea sostanzialmente dice, la Commissione Europea scopre, in realtà l'ha scoperto da tempo, che le mucche purtroppo tutti i giorni fanno la cacca e la cacca delle mucche ovviamente azoto e quindi inquina. Quindi qual è il problema che sta alla fonte di tutto? Qual è la soluzione per questo problema? E' ridurre le emissioni di azoto come riducendo gli allevamenti. E guardate che questa roba qua non è una roba campata per aria così ma vediamo come sarà. Ci sono due paesi nel nostro continente, l'Unione Europea, che stanno già applicando queste direttive che sono l'Olanda del signor Tiva, che magari mi ha sentito parlare, sui miglia nazionali, casi ridurano del 30% i propri allevamenti per rientrare nei parametri, soprattutto quelli che erano vicini a zone di ZPS piuttosto che di siti di interesse comunitario, piuttosto che siti di rete Natura 2000 perché lì le emissioni devono essere ancora più basse. e la stessa cosa sta succedendo in Belgio, dove il governo sta sostanzialmente implodendo la maggioranza crocchiata, destra, sinistra, centro, verde, in questo momento perché abbiamo un governo con un chiaro colore politico di centrodestra, con una chiara maggioranza che va avanti e prende decisione di un colore politico, poi qualcuno potrà avere un piacere per carità, però non ci sono più maggioranze eterogene che poi inevitabilmente portano a queste contraddizioni. Vi dicevo, in Belgio la settimana scorsa c'è stata una manifestazione con 2.500 trattori che sono arrivati in città, proprio per protestare contro questa direttiva sulle emissioni di azoto, proprio per la questione delle emissioni. E perché è ancora più grottesca una cosa? Perché mentre da una parte la commissione ci dice che l'agricoltura fa male perché fa le emissioni di azoto, dall'altra finanzi i programmi di ricerca per la carne sintetica. Allora, mi viene da pensare che ci sia un disegno molto ben preciso che sta alla madre di tutto. Io non voglio più... Però se vedo che la Commissione Europea ha finanziato negli ultimi 5 anni con quasi 10 milioni di euro progetti per la carne, e attenzione qui arriviamo all'orvegliano, coltivata, perché poi il consumatore che guarda distrattamente la televisione, sente parlare di carne coltivata e gli viene in mente l'agricoltore che la mattina invece di andare nell'orto a raccogliere le pere, raccoglie le bistecche, raccoglie le bracciole e le costacche. Ecco, la carne coltivata... L'ibrione fetale viene messo in una provetta, viene bombardato di prodotti chimici, di ormoni, di vitamine, di tutte le schifezze possibili e immaginabili. Quindi... ...e sostanzialmente poi diventa qualcosa che assomiglia alla carne. Se uno poi va a vedere... ...attraverso un procedimento non naturale, un procedimento chimico, biochimico e fisico, e soprattutto... ...di attività, servono milioni di euro, servono laboratori, serve ricerca e il contadino non serve più. ... ...che la carne... ...non è carne, già chiamano la carne, è un agomigno. Quella roba lì che riesce da un bioreatore, a differenza, che ne so, della fassona, piuttosto che di altre qualità di carne che ci sono nel nostro paese, avrà una piccola R sopra il marchio perché sarà brevettata. Quindi vorrà dire che se noi dovremmo mangiare la carne, tra qualche anno la nostra carne sarà come la piccola. Ci sarà un produttore che farà la stessa carne in tutto il mondo e noi dovremmo mangiare la stessa carne in tutto il mondo. Noi dovremmo abbattere le mucche che faranno le fassone perché inquinano, però potremo mangiare la carne brevettata. Ecco, questo è l'andazzo della commissione. E vengo al vino. In tutto questo meraviglioso, questa meravigliosa cornice che mi ho dipinto di decisioni che vengono prese in maniera molto, dal mio punto di vista, scelerato, qualche settimana fa, tra la fine di dicembre e il primo di gennaio, l'Irlanda, che è un paese membro, chiede alla commissione, attenzione perché i passaggi sono magari un po' tecnici ma sono importanti per capire dove si andrà a parare, chiedono alla commissione di essere autorizzati e di poter autorizzare, di essere autorizzata l'Irlanda a mettere su tutte le bottiglie di alcolici, il compreso il vino, le diciture nuoce gravemente alla salute sulla falsa riva di quello che viene per le sigarette. Ovviamente l'Irlanda, perché l'Irlanda? Perché l'Irlanda ha dei seri problemi di alcolismo. L'Irlanda, il 70% delle persone che bevono in maniera sostanziale, consumano in maniera sostanziale alcol, hanno problemi di alcolismo soprattutto giovanile. L'età media per l'inizio del consumo di alcol in Irlanda è 13 anni. 13 anni. Io ho un figlio di 11 anni che ancora adesso quando apro la bottiglietta di birra a casa la sera sento l'odore e diceva ma che è scritto in Irlanda l'età media è 13 anni, per darmi l'idea. Per risolvere il loro problema loro chiedono alla Commissione di poter derogare a questa situazione e la Commissione dice di sì. Ora, non è tanto un problema che la Commissione abbia detto di sì. Il problema è che creare questo precedente a livello interno, a livello europeo, siccome sta arrivando e arriverà nelle prossime settimane la proposta della Commissione sulla nuova etichettatura dei cibi, quindi la preoccupazione che abbiamo noi e che abbiamo condiviso anche con le associazioni di categoria è proprio che questa dicitura diventi sostanzialmente la normalità. Perché questo è un pericolo? Insomma, è abbastanza evidente. Nel nostro paese c'è una consapevolezza di quello che si beve e di quello che si mangia. In altri paesi no. Quindi, magari, se io mi trovo il vino teorcolato che produce sempre la continazionale che magari in un capparone fa le bistecche per così dire e nell'altro fa il vino teorcolato perché lo chiamano vino senza alcol io sapevo che il vino senza alcol era succo d'uva perché nel vino non ci sono ingredienti, nel vino c'è l'uva. Poi ci sono dei produttori, magari poi mi correbbero sicure le sciocchezze. Però io sapevo che il vino era fatto così. Il vino del colato non ha idea di come possa essere fatto se non con qualche diavoleria chimica e qualche passaggio che nulla ha a che fare con il vino. però andando ad influenzare quei consumatori soprattutto fuori dal nostro paese ma al nostro paese va anche la Francia, gli ultimi anni anche la Spagna che si sta costituendo una tradizione vitivinicola di un certo tipo al di fuori di questi paesi ovviamente il mercato sarebbe assolutamente messo in discussione proprio da questi prodotti che non hanno a che fare con il vino. E quindi noi ci siamo un attimino allarmati e abbiamo iniziato a fare tutta una serie di azioni, di interrogazioni, di manifestazioni in certo senso anche a livello parlamentare per ribadire che su questo tema al pari delle auto non transigeremo perché siamo tutti d'accordo su fare una comunicazione di consapevolezza del consumo di alcolici. Il fatto di essere contrari a una ticitura così transciante sul vino, sull'alcol non significa che non si tenga conto delle problematiche che ci sono anche nel nostro paese sull'abuso dell'utilizzo degli alcolici e che purtroppo porta con sé conseguenze sanitarie, porta con sé conseguenze sociali, porta con sé conseguenze di sicurezza penso purtroppo quello che succede ancora troppo spesso sulle nostre strade ogni sabato sera soprattutto con i giovani ma proprio per questo invece di mettere un'etichetta che va a dare delle indicazioni fuorvianti al consumatore dal nostro punto di vista sarebbe meglio investire in comunicazione e formazione e informazione nei confronti del consumatore al fine di... ...e buona stessa cosa se vi ricordate che stava succedendo con Nutriscore e Nutriscore era quell'indicazione semaforo degli alimentari che si andavano a comprare al supermercato che uno può dire utile, mi dà un'informazione a me che sono consumatore e magari non so cosa c'è, non sto a leggervi tutta l'etichetta con la componentistica di cosa c'è dentro in un determinato alimento quanti zuccheri, quanti grassi, quante calorie e poi c'è il numero di calorie, saranno tante, saranno poche, quante me ne servono ci vuole una laurea in chimica per leggerle e uno magari non le guarda quindi un sistema di comunicazione più user friendly come dicono a Bruxelles sicuramente poteva essere utile ma anche qua siamo riusciti e qua devo dire a livello italiano pur con sensibilità diverse dei vari partiti noi in maniera un po' più diciamo così agguerrita altri partiti in maniera un po' più diciamo, passate a mettere in diplomatico un po' più possibilista mettiamola così però siamo riusciti a stoppare insieme ad altri paesi la proposta della commissione che portava avanti il Nutri Score perché ci siamo messi di traverso perché non dava un'informazione al consumatore dava delle indicazioni al consumatore cioè lo induceva a scegliere determinati prodotti rispetto ad altri perché il Nutri Score si basava su un algoritmo che su un'equazione che teneva in conto il numero di grassi, di sali e di zuccheri dove ovviamente non teneva conto dei processi produttivi e soprattutto della quantità consumata e quindi noi ci siamo, ci si trova non so se poi tu quando sei stato a Bruxelles sei andato a vederlo se hai avuto modo di confrontare personalmente questo tema però chi è stato a Bruxelles io ho invitato a vederlo visto che la Francia in qualche modo abbiamo già avuto alcune catene di supermercati lo applicano Belgio e Olanda perché loro sono sempre i primi ad applicare qualsiasi roba che gli manda l'Unione Europea sono sempre i primi e ci va anche bene perché così tocchiamo con mano i disastri che arrivano hanno implementato nella loro catena di distribuzione questo sistema e tu vai al supermercato a Bruxelles e ti trovi che la Coca Cola Zero siccome non ha zucchero nell'equazione se tu metti zero il risultato per la fine ti viene zero quindi tu ti trovi la Coca Cola Zero che è una A verde quindi il consumatore inconsapevole la trova come un prodotto buono per la propria salute e tu vai a comprare il quadrotto di parmigiano reggiano quello che trovi all'estero all'estero trovi le monoporzioni quelle per fare la merenda dai bambini che sono 80 grammi, 70 grammi di parmigiano reggiano ma 4 è una stagnola che ha la lettera D quindi il consumatore inconsapevole cosa fa? al proprio figlio dà la Coca Cola Zero le patatine fritte del sacchetto che hanno la lettera C tutte, io le guardate tutte con la paprika, senza paprika, fritte, non fritte, cotte, non cotte tutte la lettera C il parmigiano reggiano ha tutta la lettera D il prosciutto di Parma ha la lettera D vi porto questo esempio l'avrete già sicuramente sentito ma lo voglio puntare perché l'ho provato in prima persona ho fatto il giro del supermercato a vedere, a parte delle cose che francamente non riuscivo a capire sono stato in un Carrefour perché gli sponsor di questa roba qua i grandi promotori di questo Nutri-Score sono le grandi multinazionali delle grandi istituzioni organizzate quindi Carrefour, Deleuze l'industria della chimica tedesca perché ovviamente poi vi spiego il perché e soprattutto Danone e Nestlé cioè i due principali gruppi mondiali del food lavorato in fabbrica sostanzialmente della grande distribuzione che entrano poi nella categoria della grande distribuzione vado in questo Carrefour e vi dicevo l'incompressibilità di questa cosa c'erano appaiati uno di fianco all'altro i Cornflex uno ha i Cornflex normali i trochi di maestro normali marca Carrefour e di fianco i Cornflex bio marca sempre Carrefour quindi stesso produttore stessa marca allora uno sospetterebbe che il bio sia in qualche modo più sano migliore per la salute da preferire come consumo il bio aveva la lettera D quello normale aveva la lettera C io ho provato a leggermi a quel punto mi sono incuriosito ho provato a leggere l'etichetta non sono riuscito a capire il perché il bio fosse D e quello non bio fosse C però capite che questo in un consumatore non attento cosa prende quello non bio sempre lo bacio a loro però è per darvi un esempio altro esempio quello più classico più canonico le patatine fritte sul gelate quelle che voi comprate nella busta no? che magari chi ha figli a casa arriva a casa la sera da lavorare deve mettere su è ovvio che non tutti abbiamo tempo di cucinare la verdura tutti i giorni preparare un pasto in un certo modo a volte lo faccio anch'io bisogna ricorrere a dei mezzi diciamo così di sopravvivenza per noi genitori e quindi due sofficini lindus piuttosto che le patatine fritte con magari una bistecca fatta al volo le patatine fritte sul gelate che nella migliore delle ipotesi uno le mette nel forno la maggior parte di noi le fa in due dita d'olio arriva la lettera A e ora ci chiediamo ecco questo è per darvi l'idea di come poi queste indicazioni che ci vogliono e soprattutto più salure e soprattutto più salure poi in realtà siano dei mezzi diciamo così anche un po' gretti di influenzare il consumatore Noi in Italia abbiamo la tessera del supermercato andate alla Coppa, andate all'esse lunga andate dove vi pare ci sono i punti con i punti cosa vi danno? le pentole poi vi farò lo sconto sulla spesa i punti ve li danno in base a quattro lì no non danno più i punti in base a quanto spendete vi danno i punti in base a quanti prodotti A e B con l'ultri-score A e B poi comprate e guarda caso quando tu vai nel banco del frigo nei banchi frigo e trovi tutti i prodotti semilavorati industrialmente roba precotta roba che uno da noi non darebbe neanche al cane hanno tutti dei valori di nutri-score stranamente molto basso se non è la A è la B ho trovato un vasetto di salsa al curry con dentro una fila di roba addensanti, coloranti, aromi naturali eccetera eccetera emulsionanti, conservanti eccetera eccetera che aveva una fantastica lettera C e di fianco c'era un vasetto di pesto genovese che nel pasto genovese è anche fatto industrialmente c'è dentro basilico, aglio, pecorino e un po' d'olio mettici un conservante però è la lettera D quindi voi capite, ripeto nel nostro paese non è un grande problema perché noi abbiamo una consapevolezza di cosa vuol dire mangiare bene di scegliere un prodotto di un certo tipo rispetto a una porcheria fatta a livello industriale anche se si sta un po' perdendo, devo dire la verità però c'è una base culturale di un certo tipo ma nel nord Europa dove hanno patate e cavoli cosa volete che ne sappiano di cosa vuol dire mangiare bene quindi mi viene in mente che sia anche una questione di invidia nei nostri confronti che abbiamo un clima meraviglioso una terra splendida e sappiamo mangiare bene tutti gli altri a livello mondiale la dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO più di così cosa dobbiamo fare eppure si va verso un attacco deliberato verso quella che è una nostra grande prerogativa quindi questo abbiamo un po' il quadro nel quale ci muoviamo anche qui noi abbiamo proposto fatto una proposta perché poi sembra che siamo là solo a dire di no che fa schifo tutto no, siamo là a cercare anche di dare delle proposte alternative abbiamo fatto la proposta di fare un'indicazione piramidale cioè di mettere dei cartelli all'interno dei supermercati informando il consumatore non semplicemente blattendo il consumatore o fuorviando le scelte del consumatore spiegando al consumatore che le torte, le merendine, quella roba lì un po' meno in cima alla piramide alimentare il formaggio il formaggio va bene però con cautela i salumi uguale i legumi, i legumi vanno bene se ne possono mangiare un po' di più frutta e verdura, frutta e verdura avanti la carne, un po' carne, un po' pesce, un po' legumi quindi in questo modo si informa il consumatore invece di là non si informa il consumatore gli si dice prendi i prodotti che faccio io ti dico io che fanno bene quando non è vero che fanno bene perché talmente la palissiamo che sia forviante questa indicazione che però tanto va bene uguale ecco questo è un po' il contesto quindi le minacce, si parlava di minacce sono reali, sono concrete noi in questo momento stiamo lavorando per portare diciamo così un po' con una spallata di qua un po' con una spallata di là un po' come abbiamo fatto con l'automobile che siamo riusciti anche qui le grandi contraddizioni io ci tengo molto a questo tema perché ritengo che non si possa sempre prendere in giro la gente gratuitamente ci stanno dicendo che salveremo il pianeta se andremo tutti con l'auto elettrica perché l'auto elettrica non inquina l'auto elettrica è vero non fa emissioni quando tu la utilizzi perché a Bruxelles sapete come vanno a misurare le emissioni che fanno i veicoli mettendo una sonda nel tubo di scappamento è chiaro la macchina elettrica non c'è neanche il tubo di scappamento quindi sarà sempre zero se noi andassimo a vedere invece l'intero ciclo produttivo di un'auto elettrica rispetto ad un'auto motore convenzionale ci accorgeremo che la realtà è un po' diversa e questo è il primo tema il secondo tema è che portarci a fare questo tipo di transizione obbligarci a fare questo tipo di transizione guardate io sono un liberale non ce l'ho contro l'auto elettrica perché chi ha l'auto elettrica è un fighetto o non ha capito niente della vita se non vuoi comprare l'auto elettrica ma deve essere liberissimo di farlo però non mi si può imporre di dover comprare l'auto elettrica perché se non ho l'auto elettrica sono un distruttore del mondo perché per fare l'auto elettrica servono metalli e risorse prime che noi non abbiamo perché nell'auto elettrica, nelle batterie dell'auto elettrica visto che poi c'è qualcuno che va in giro a dire che dico delle strozzate ma vi posso assicurare che è tutto assolutamente documentabile le batterie dell'auto elettrica sono fatte con il nickel che viene estratto sapete qual è il primo produttore del mondo di nickel? la Repubblica Democratica del Congo uno dei paesi più poveri della terra e sapete chi è che fa le estrazioni del nickel in Repubblica Democratica del Congo? la Cina sapete chi è il primo lavoratore della materia prima nickel estratto nella Repubblica Democratica del Congo? la Cina per fare le auto elettriche servono sbariati chili di terre rare di cui la Cina oltre a essere la prima estratrice è la prima lavoratrice quindi ha il monopolio assoluto di queste terre rare che hanno i nomi impronunciabili ma che sono indispensabili per fare i semiconduttori per fare i magneti per fare i diodineti che servono come il pane per fare le auto elettriche e vengono fatte devastando l'ambiente perché non è che sono tutti minerali e sono tutti metalli quindi per estrarli bisogna fare delle miniere c'è uno studio di Standard & Poor's americano che prevede che nella prossima decada cioè nei prossimi dieci anni per raggiungere quegli obiettivi che la Commissione si sta dando e in qualche modo anche la Cina per motivi diversi e gli Stati Uniti anche si stanno dando bisogna aprire dalle 200 alle 300 nuove miniere ecco ecco se noi abbiamo la presunzione di pensare che la miniera siano i sette nani che col piccone sulla spalla vanno gridando andiamo 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 a lavorare per tirar fuori le cose da sottoterra ecco questa cosa qua toglierla dalla testa perché oltre alla contraddizione che per fare le miniere servono scavatori camion e strumenti che inquirano 10.000 volte un euro 6 ma devastano l'ambiente perché per fare quindi noi andiamo a devastare l'ambiente scavando c'è anche un problema sociale perché spesso queste queste miniere vengono fatte dove ci sono dei villaggi delle popolazioni come succede in Cina cosa fanno? fosse in Europa capa cavallo in Cina ovviamente arrivano scavano anche quelli del villaggio e chi si è visto si è visto perché non erano grossi problemi da quel punto di vista lì ci sono problemi ambientali perché poi ovviamente la lavorazione di questi metalli richiede passaggi chimici che sono devastanti e poi la chimica che viene utilizzata va nel vario sottosuolo o peggio mai mare e poi c'è il tema del riciclo visto che mi è stato detto che il problema del terrario si risolve riciclando ecco sapete qual è la percentuale sono dati che riportano le Nazioni Unite non le dico io la percentuale di riciclo del litio attuale l'1% per 100 kg per 100 kg di litio che io utilizzo per le batterie recupero un chilo per le terre rare che sono più impattanti ancora da recuperare ce ne vanno di meno numericamente l'1% quindi a me sta bene andare verso una libera da una dipendenza che è quella del gasolio russo permetterci una dipendenza ancora peggiore che quella delle materie prime cinese perché come quello che per smettere di fumare inizia a farsi di eroina non è propriamente furba come iniziativa la seconda cosa è che noi chiediamo che ci sia anche non solo la neutralità climatica ma che ci sia anche la neutralità tecnologica quindi di poter utilizzare tutte quelle risorse tutte quelle tecnologie che ci possono permettere di essere come Europa un po' più autonomi un po' più un po' meno dipendenti soprattutto dalla Cina la globalizzazione sta finindo dovremmo fare i conti con questo contesto nuovo mondiale che sarà anche temo anche un po' difficile da raggiungere e un po' doloroso da raggiungere per tanti punti di vista quindi noi dobbiamo ed è per questo che abbiamo interrotto il procedimento sull'auto perché mentre i tedeschi hanno insistito per poter inserire i cosiddetti i fuels cioè i carburanti sintetici perché la Germania è il libero mondiale della chimica e quindi hanno questa possibilità noi abbiamo chiesto al pari di poter lavorare di più sull'idrogeno e soprattutto sui biocarburanti sul quale fortunatamente molte aziende italiane sono all'avanguardia e possono in qualche modo garantire la possibilità ripeto abbiamo un anno per tapponare queste derive perché poi l'auspicio e su questo dovrete dare una mano tutti voi l'anno prossimo è quello di portare a Bruxelles una maggioranza in Parlamento solidamente di centrodestra al pari del governo italiano e soprattutto portare a Bruxelles una commissione che prima di tutto prenda signor Timmermans nello spedisca a pescare o dove diavolo vuole andare più lontano possibile dalle istituzioni e soprattutto ripeto una commissione che sia meno ideologizzata su questioni ambientali che poi portano tutta una serie di contraddizioni e soprattutto più coerente e più attenta a quelli che sono i bisogni di tutti i cittadini noi ovviamente ce la mettiamo tutta se ci date una mano ce la mettiamo ancora di più grazie quindi grazie il direttore della modella che per fortuna prende l'etichetta ancora senza multi score e senza altre problematiche anche perché il vino è sano buonasera applausi beh questa sera è tratta come ha detto giustamente l'onorevole Panza sulle minacce al vino ma anche tutto all'agroalimentare italiano io vorrei citare una frase di Nani Slampa che lui l'avrebbe risolta così chi è il disco il vino fa male e le leggende all'ospedale in realtà noi vogliamo non vogliamo fare una global protestatari ma vogliamo affrontare anche con enoteche regionali non solo con enoteche regionali del Piemonte affrontare queste minacce in modo serio e con delle proposte alternative perché giustamente ha detto l'onorevole Panza che si sta pensando alla carne coltivata e che ha dei valori tutto sommato nutrizionali al pari o migliori della carne naturale in realtà è così perché con l'utri-score che non voglio addentrarmi in un campo che non è mio viene calcolato tutto con un algoritmo e per esempio i grassi di un prodotto vengono tutti equiparati e quindi anche i grassi che sono fondamentali per l'organismo umano vengono equiparati ma questo non lo è perfetto anzi ha molte lacune non è studiato dai francesi ma da un francese il professor Eckberg che è stato smentito dal suo stesso governo peraltro esatto e Legrant ha fatto notare che ci sono profonde lacune in questo sistema perché per esempio come diceva giustamente l'onorevole il parmigiano reggiano che ha molti grassi come tanti prodotti nostri italiani vengono equiparati al bollino rosso e il nutrisporo è il bollino verde e il bollino verde e si usura un'altra lettera che è la lettera F e il bollino verde è forviante e polle al mio abito così come non se ne parla tantissimo ma ha le indicazioni nutrizionali cosa che è obbligatoria dal 2016 sulla direttiva dell'Unione Europea in cui tutti i prodotti alimentari devono avere le indicazioni nutrizionali dal 2023 alla fine del 2023 anche il vino deve avere queste indicazioni in tutte le lingue dei Paesi membri voi capite bene che in un'etichetta del vino mettere tutte queste indicazioni è abbastanza complesso allora hanno pensato di mettere un QR code con un U-Label in modo che scansionandola con il cellulare è possibile andare a vedere una piattaforma dove vengono date tutte queste indicazioni nutrizionali il vino normalmente ha l'87% di acqua un 10,5 12 di acqua e questo può essere una soluzione però le cose più gravi al di là del del bollino nero che danno sul vino e la proposta irlandese che loro hanno dei problemi gravi di alcolismo così come tutti i Paesi anglosassoni hanno questo problema serio c'è un'altra problematica che non se ne parla però è importante fare notare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Tel Aviv ha votato ha approvato un documento molto importante che è l'European Framework for Action con alcol 2022 2025 questo documento prevede che entro il 2025 il consumo procapite di alcol deve calare del 10% io vorrei capire come fanno misurare questo dato perché io un giorno bevo due bicchiettini un altro giorno uno magari per tre giorni bevo acqua quindi vorrei capire come fanno fare questa valutazione ma la cosa grave non è questa riduzione procapite la cosa più grave che oltre la proposta irlandese che è quella di segnare sull'etichetta del vino questi alert come le sigarette per intenderci vanno a mettere vanno a proibire innanzitutto la promozione del vino e tutta una serie di attività che normalmente viene fatta e soprattutto aumentare la tassazione sui prodotti alcoli l'errore che fanno è un po' come perché ho citato questo documento firmato a Tel Aviv e drammaticamente anche dalla delegazione italiana e francese ed è per questo anche che ho citato Svampa all'inizio perché è tutta gente dell'ospedale perché vanno a equiparare tutte le bevande alcoliche dalla birra che fa magari due, tre, quattro, cinque gradi ai superalcolici quindi vengono equiparate tutte la stessa maniera e sicuramente chi verrebbe colpito proprio al cuore sono paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna e anche il Portogallo insomma i nostri i nostri paesi che sulla produzione vitivinicola hanno fatto una presidenza assoluta le produzioni vitivinicole tra l'altro bisogna evidenziare una cosa che non sono solo fine a se stessi il vino non si produce solo vino rappresentano un'eccellenza trasversale perché vanno anche a come dire promuovere dei territori nella loro interessa il vino è quel fil rouge che noi adesso con la candidatura del Alto Piemonte Gramo Ferrato capitale europea del vino 2024 stiamo indicando il fil rouge che unisce dei territori come elemento unificante elemento di eccellenza assoluta e dietro al vino non è come dietro alle sigarette che sappiamo che il tabacco fa male anche l'albo fa male se bevuto in grande quantità e porta l'alcolismo e la tirosipatica però dietro al vino c'è passione ricerca tradizione tutte queste cose che invece stanno iniziando a portare avanti di questi saloni di queste organizzazioni metterebbero in mora tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni nel nostro paese e in altri paesi pensate non potremmo più fare il vino non potremmo più fare il salone del vino e io il salone del vino a Torino che sono stato nei tre giorni dell'ultimo weekend come noteca regionale che abbiamo rappresentato l'alto Piemonte c'era molto interesse molti giovani ma che erano interessati in modo consapevole cioè chiedevano si informavano ed ecco qui proprio sabato ho parlato con l'assessore all'agricoltura della regione Piemonte a nome mi sono stato un po' portavoce anche di altre noteche regionali dicendo è vero ci sono questi minacci perché l'avevo invitato a partecipare a questa conferenza però non poteva esserci perché aveva un altro impegno e ho detto è vero che ci sono queste minacce però cerchiamo di affrontarle ripeto non facendo il nuovo portare statario ma portando delle proposte e un confronto costruttivo la proposta che avremmo fatto noi come coordinamento delle noteche regionali all'assessore regionale che vorremmo portare all'assessorato regionale dell'agricoltura che poi ci facesse portavoce al ministero delle politiche agricole è proprio quello di dire non mettiamo bollini neri che non hanno senso e poi abbiamo visto che gli algoritmi sono un po' falsati ma andiamo a mettere un QR code che è meglio che è scritto nuovece gravemente alla salute dove spieghiamo quello che ci dietro al mondo del vino dove spieghiamo non solo i valori nutrizionali che è abbastanza complesso per il mondo del vino che di anno in anno o di annata in annata possono cambiare ma andiamo a spiegare tutto quello che c'è dietro il mondo del vino e soprattutto la grande eccellenza culturale millenaria che c'è dietro questo prodotto che è un valore di eccellenza assoluta io non voglio dilungarvi vi invito nell'altra nell'altra stanza abbiamo un piccolo aperitivo visto che l'ora è tarda se volete lascio ancora la parola per la chiusura e vi ringrazio grazie 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 ma nel Vangelo durante l'ultima cena Gesù usa il vino per fare eucaristia non usa la coca cola o qualcos'altro ma questo ripeto non per essere blasfemo ma per rimarcare come il vino faccia parte del nostro patrimonio culturale dicevo che mi ha presieduto millenario e mi urta un po' che ci sia un burocrate a Bruxelles che mi voglia insegnare che millenni della mia cultura valgono zero perché hanno deciso che fa male ecco questo è il rapporto su cui dobbiamo combattere tutti insieme perché non ha una battaglia di un culore politico è una battaglia culturale che deve difendere il nostro paese e tutti gli altri paesi che fanno che condivinano questo percorso insieme a noi e adesso andiamo veramente grazie 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 per chi vuole la sala mostra c'è grazie 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 grazie